È la fine di Luna, Luna arriverà a zero, capitolazione, speculazione, c'è infantoccio, ovviamente il discorso con Luna o ST è molto tecnico, però cercheremo di capire comunque insieme quello che sta succedendo, quello che sto facendo io e quello che avverrà probabilmente. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi nuova postazione, ma più che nuova, diciamo nuova inquadratura sostanzialmente, perché? Perché ho voluto fare questo breve video su Luna per capire sostanzialmente che cosa sta succedendo in questo momento, quindi visto che abbiamo tempi stretti ci muoveremo appunto in questo modo oggi, vi faccio vedere anche un po' lo schermo insomma di quello che succede con questa prova qua. È vero che ci sono progetti molto validi, è vero che la DeFi può essere il futuro ma come sta dimostrando il caso Luna o ST resta veramente un'area ad alto rischio, soprattutto se paragonata a Bitcoin ed Ethereum. In fasi di mercato come queste dove comunque ci possono essere tante problematiche come i DPEG delle stablecoin algoritmiche e il caso Luna UST insegna. Ma sostanzialmente che cosa vuol dire DPEG? Si può parlare di DPEG quando una valuta sostanzialmente vuole essere collegata al valore di un'altra. Ad esempio nelle criptovalute appunto abbiamo le stablecoin che per definizione sono stabili perché ancorano il loro valore a quello del dollaro, quindi una stablecoin, ad esempio Tether, ad esempio OST, OSDC, uno uguale un dollaro. In questo caso il DPEG è stato appunto il fatto che un OST non valesse più un dollaro. Voglio raccontarvi anche che cosa ho fatto io con Luna in questi giorni. Poco dopo la comunicazione dei tassi di interesse che è avvenuta appunto qualche giorno fa del 4-5% su Bitcoin in 24 ore, avevo diverse posizioni in Luna che sono andato a liquidare al 50%, così da recuperare il mio investimento iniziale e anche ad avere un profitto sostanzialmente. Ora l'altro 50% di terra che ho non vale assolutamente nulla, però questo diciamo così che tra virgolette non mi interessa. O meglio andremo a vedere quello che succede. Però la cosa importante è che sul totale della posizione non sono in perdita. Questo che cosa vuol dire? Che holdare sostanzialmente non è una strategia nelle cripto e bisogna prendersi i profitti. Vi voglio far vedere una cosa sullo schermo. Quello che voglio dire che cosa è che da qui fino a questo momento qua, stiamo parlando di agosto dell'anno scorso, c'è stata la possibilità di prendersi i profitti. Da che era arrivata a circa appunto 120 dollari, adesso ce la ritroviamo a 2 dollari. Il money management diciamo che è una cosa importante e appunto holdare, non è una strategia di investimento. Soprattutto sulle altcoin in generale che sono ad alto rischio. Avere una strategia di investimento di entrata e di uscita è fondamentale. Personalmente ora come ora non ci metto un euro, euro in più ovviamente, ma nei prossimi giorni valuteremo qual è la situazione. Ma per conoscenza storica, se un asset capitola ritracciando del 100% in 3 giorni è morto. Effettivamente se non è morto non esce con le ossa rotte. Occhio a Solana a questo punto. Come possiamo vedere sostanzialmente Terra in 6 settimane è andata a fare un meno 98%. Ovviamente nessuno poteva prevedere una cosa del genere, nessuno si aspettava questo su Anchor. che ha contifatti il più importante dei collettori di liquidità di Terra Luna come ecosistema. Grazie anche a degli interessi molto elevati offerti a chi deposita. Ne abbiamo parlato insomma in questi giorni. C'era la possibilità di assicurare il capitale contro il DPEG di UST al 3% di API all'anno, ma non tutti l'hanno fatto. Ma in mezzo ad una guerra persa c'è sempre un vincitore, come possiamo vedere da questo tweet. E sembra sia arrivata anche la notizia di Binance in cui dice dopo un'attenta valutazione Binance cancellerà tutte le coppie di trading di Terra UST alle 18 del 14 maggio 2022. I prelevi dei depositi sono ora sospesi. Gli UST in DeFi possono essere brigiati su altra cena e convertiti in un'altra coin. Quindi diciamo che non importa proprio passare da Binance, però era anche importante insomma fare questo piccolo appunto. Ed effettivamente, diciamo così, averla vista sotto i 5 dollari ha fatto ingolosire un po' di persone. In particolare quelli che credono che possa fare un altro miracolo, don't know. Da ieri piuttosto silenzioso. Dicono appunto che stanno per inserire altro, altra liquidità. Bah, staremo a vedere. Detto questo ragazzi, chi studia, chi imparerà a fare analisi tecnica, analisi on-chain, analisi progettuale, trading, chi svilupperà skills di money management e avrà pazienza soprattutto in questo mondo, avrà l'opportunità di fare tanti soldi. Quindi quello che vi posso dire è non affidatevi a nessuno, studiate, ragionate ed informatevi. E fatelo soltanto con le vostre esclusive competenze. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Lascia un like e metti follow per altri video. Lascia un like e metti follow per altri video.